Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di sabato, vigilia di Natale, che nel complesso sarà più che discreta in gran parte d'Italia, anche se correnti umidi occidentali tanto in tanto porteranno qualche annuvolamento, ma nel complesso pressione atmosferica relativamente alta. E quindi se continuiamo alla nuvolosità del nostro paese, vediamo sì un po' di macchie grigie scure, ma in realtà si tratta però più di umidità e quindi in pianura padana e sul vestante tirenico a tratti il cielo sarà un po' più grigio, ma senza grandi conseguenze. Come precipitazioni infetti, poco da segnalare, saranno qualche fiocchettino di neva a quote alte sulle cime alpine di confine e poi qualche gocciolina di pioggia che potrebbe presentarsi tra l'estremo Levante Ligure e l'Alta Toscana. Quindi in definitiva ci attende una vigilia in segna del bel tempo da nord a sud, qualche nuvola di passaggio la vedremo, soprattutto sul versante tirenico, in pianura padana, cielo a tratti grigio per la presenza di nuvole basse e foschie, soprattutto al mattino e come temperatura però clima particolarmente mite per il periodo. Al centro-sud superiamo i 15 gradi e anche al nord non farà particolarmente freddo, tutt'altro. Per sapere poi nel dettaglio come andrà il resto delle feste, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.